Si possono immaginare scenari particolari? Non chiediamo un cari mezzo, siccome io mi è stato sempre detto che guadagno troppo e che faccio parte del vecchio ciclo, quindi non rientro più in quelli che sono i programmi e ci può stare, poi dopo sento dire che c'è qualcosa che non si può dire in tv e siccome io in coscienza sono a posta e sono trasparente, posso non essere continuo, posso aver sbagliato dei gol, posso qualsiasi cosa, naturalmente sempre e comunque in buona fede, quindi se ci sono situazioni diverse, ma dillo al pubblico perché ti devi nascondere su un qualcosa che non esiste? Quindi io quello che ho voluto solo è semplicemente esprimere e dire guarda te autorizzo io, di tranquillamente quelle cose che non si possono dire, perché sennò dopo si dà adito alla gente e comunque di invenire sempre contro di me e sinceramente a 36 anni mi permettete di dire, voglio dire che mi dispiace, sono stanco e soprattutto perché ho dato qualcosa a questa città e soprattutto perché ho ricevuto tanto da questa città, quindi perché buttare fumo negli occhi quando poi l'anno scorso, voglio dire, perché io sono amareggiato, sono dispiaciuto, non credetemi che in questa situazione sia felice, questa è la mia vita, questo è il mio calcio, l'ho fatto sempre da 20 anni, quindi stare in queste condizioni non è bello per me principalmente, non è bello per la mia famiglia, perché è stata sempre comunque la mia vita, quindi mi permettete di dire, voglio dire, che non posso essere sempre io il capo ispiettorio, mi permettete di dire che l'anno scorso qualsiasi cosa succedeva, esoneravano mutti, prendevano castori, esonerato castori, prendevano brini, ero sempre io colui che pilotava il tutto? Mi permettetemi di dire che sono cose che non esistono, sono stato aggredito, per quale motivo? Per aver sbagliato un gol a Rimini? Ma vi ricordate a Lanciano cosa ha combinato? A Porta Libre ho preso un palo? E' più o meno la stessa cosa, allora bisogna essere equilibrati in tutte le cose, non posso essere sempre e solo l'unico responsabilità, adesso perché la Salernitana purtroppo ha avuto due, siamo solo a limite, che non si deve fare assolutamente polemica, voglio essere tragici, è sempre Di Napoli responsabile? Quello di Di Napoli è come dire uno sfogo comprensibile, certo noi non sappiamo Di Napoli quali siano le leali ragioni, perché ovviamente bisognerebbe... Ma non le so neanche io Franco, non le so neanche io... Bisognerebbe insomma entrare nella stanza dove siete stati, o siete soltanto tu e il Presidente Lombardi e la società? No, no, lo sa solo lui, io non lo so... Prendiamo atto delle tue dichiarazioni, come abbiamo preso atto di quella di Lombardi, ti diciamo che, ma questo lo saprai perché conosci e vivi Salerno, che molti tifosi ti divorrebbero in squadra, anche alla luce della campagna trasferimenti che si è conclusa, cioè la Salernitana non ha preso quell'altro attaccante... Io penso che principalmente sia anche, voglio dire, deleterio per una società, insomma, rimettermi in squadra adesso, quando poi dopo è un chiaro segnale che non mi voglio, non voglio dire... E allora, dopo non è che se le cose vanno male, dicono, oh fermi, l'avete voluto voi di Napoli, e adesso piangendo... Non va bene... Senti, ma si era parlato anche di un tuo possibile trasferimento, ritorno a Messina, poi perché non si è fatto più nulla? Ma Franco, perché comunque si tratta di una serie di... Voglio dire, io posso esprimermi... Secondo me ancora... Io davvero Messina è una città dove poi la prendevo per dare un ulteriore amano, dico, vediamoci incontro, però in questo momento, voglio dire, adesso l'unica soluzione è andare giù a Messina, voglio dire, però... Voglio dire, non è una cosa facile, non è una cosa chiara, io voglio adesso vedere cosa fa la Salernitana, cosa mi prospetta... Di Napoli, per chiudere, che cosa chiedi alla Salernitana? Visto che adesso la situazione è veramente in stand-by, cioè tu sei qui, la Salernitana, tra virgolette, non ti vuole, ma tu hai un contratto, quindi ti deve pagare, però tu non giochi. Quindi, se il calcio è la tua vita, non vai bene tu e non va bene la Salernitana. È nel diritto di una società di calcio? Assolutamente. A fare una cosa del genere, è nel diritto di un presidente, come dire, esporre dei propri soldi, e come meglio credi e come meglio ritieni opportuno. Non certo un giocatore può assolutamente mettere becco su quasi. Io, ripeto, come ho sempre detto, come sempre farò, sono qui in silenzio, che non voglio disturbare l'operato di nessuno, voglio stare tranquillo e sereno e godermi questi ultimi anni di carriera e cerco di farlo nella maniera migliore. Dove... Questo, purtroppo, non te lo posso dire, perché se avessi avuto la sfera magica... però in questo momento adesso la situazione è un po' particolare, un po' difficile, insomma, anche perché rischio davvero di diventare ulteriormente il capo ispettatore. Sinceramente a 36 anni, alla mia età non ce la faccio più. Di Napoli, grazie per questo collegato telefonico. Il saluto di Salvatore Orilia a nome dei tifosi. Arturo... Un abbraccio, Salvatore, un abbraccio. Ciao, stanno a sentire. Tu allenati, Arturo. Che la serenità... Tu allenati. Perché i tifosi, come ha detto Frank, non è che sono pochi. Tutta la città. Sono pochi quelli che non ti vogliono. Ignoranti e i cretini, che non vogliono bene alla serenità. Non puoi neanche considerare l'inno, perché comunque alla fine per tutto quello che è successo, tra virgolette, vanno anche un po' giustificati. Perché alla fine, Franco, bisogna essere anche sinceri. Voglio dire, tanto ormai stiamo parlando come un tifoso, come un uomo di sport, non come giocatore della serenitana. C'è gente comunque che a 100 euro, 50 euro fa la spesa e 50 euro li spendono per la serenitana. E quindi bisogna avere anche rispetto per chi critica, per cose che forse magari qualcuno ha detto o ha fatto fraintendere e fatta capire. Quindi sono anche comprensibili. Sicuramente sono da censurare le situazioni che ho vissuto io l'anno scorso a livello proprio fisico. Però su altre c'è anche da capire, voglio dire. Grazie Di Napoli. Grazie per questo collegamento. Grazie. È il caso di dire...